Buonasera, bentornati al telegiornale di RTA, scuola ancora in primo piano. Nessuno si è confrontato con me prima di decidere la riapertura dell'Istituto di Tarsogno e di Santa Maria del Taro il giorno 14, dopo che si era deciso per il giorno 23. È infastidito il sindaco di Torno, Lorenzo Lusardi, per questo cambiamento inatteso e che lo trova totalmente in disaccordo. La decisione di far aprire regolarmente il 14 settembre le scuole che fanno capo all'Istituto Comprensivo di Bedogna non trova d'accordo il sindaco di Torno, Lorenzo Lusardi. Una notizia spiega, giunta inaspettata, a tre giorni di distanza dal sopralluogo fatto presso l'edificio scolastico di Tarsogno e di Santa Maria. Con il reggente, il professor Pettenati, si era concordato l'apertura il giorno 23. Lusardi esprime il suo disaccordo e quello dei genitori residenti nel comune in merito alla decisione assunta. I nostri edifici scolastici, come di consueto prosegue il primo cittadino, vengono adibiti a seggio elettorale. Il referendum del giorno 20 e 21 ci vede costretti alla sospensione delle elezioni dal 18 al 22 compresi. Faccio presente a chi ha voluto insistentemente la riapertura al 14, che ha penalizzato fortemente il comune di Tornolo, dove non vi sono altre strutture idonee per ubicare i seggi elettorali. Chi ha preso questa decisione improvvisa, conclude il sindaco, era meglio che prima si confrontasse con me. La ripartenza dell'anno scolastico è ormai alle porte, ma i dubbi e le problematiche rimangono sul tappeto e sono tante. Non solo il timore del contagio da Covid, ma anche le probabili e numerose assenze degli insegnanti che vanno a pesare, e non poco, su questo inizio d'anno. Non c'è solo il problema della gestione degli eventuali contagi, l'incognita della consegna dei banchi monoposto nei tempi previsti e della carenza delle aule a cui fare fronte. Ora si aggiunge anche il problema del rischio cattedre di ruolo vuote e di un'impennata di supplenti. Il governo ha infatti autorizzato il Ministero dell'Istruzione ad assumere 85.000 prof. a tempo indeterminato. Ma anche se il decreto del MEF con l'ok alla spesa è stato firmato solo il 28 agosto, le operazioni per l'assegnazione delle cattedre si sono già concluse ed è rimasta vuota una buona parte di esse, con annessa necessità di coprire le restanti consuplenti. Le nomine in ruolo dei docenti, infatti, per legge, devono avvenire per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il restante 50% dalle graduatorie concorsuali, in primis con concorsi del 2016 e 2018. Essendo slittato in autunno il nuovo concorso annunciato dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ed essendo ormai vuote da anni, specie al nord, era inevitabile che molte delle 84.000 cattedre a disposizione non fossero coperte da un docente stabile. Una replica del resto, di quanto è successo lo scorso anno, quando su 42.000 posti a tempo indeterminato furono immessi in ruolo circa 20.000 docenti, ricorda Rino Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda Insegnanti. Anche se la ripresa delle lezioni è prevista per il prossimo 14 settembre, l'effettiva carenza di insegnanti di ruolo potrebbe rallentare oltremodo i programmi didattici. Cambiamo argomento, la Giunta dell'Unione dei Comuni Valditaro e Ceno ha approvato nel pomeriggio di ieri l'Happy Ticket per la stagione in corso. Le convenzioni sono state attivate già questa mattina in concomitanza con l'avvio del primo weekend della Fiera del Fungo IGP di Borgotaro. L'Unione dei Comuni Valditaro e Ceno ha approvato anche per quest'anno lo stanziamento a favore del cosiddetto Happy Ticket, ovvero che coloro che provenendo da fuori valle pernottano in una struttura convenzionata per una notte hanno per il giorno successivo la possibilità di avere gratuitamente il biglietto per andare per funghi. Questa iniziativa è sponsorizzata il 40% dall'Unione dei Comuni per quanto riguarda i comuni facenti parte, dai comuni stessi per i comuni non facenti parte dell'Unione, un altro 40% lo mettono invece i proprietari della struttura ricettiva presso la quale il cercatore di funghi alloggia durante la notte, mentre il 20% è una sorta di sconto che fanno gli enti proprietari dei terreni dove si va alla ricerca dei funghi. Proprio così, anche quest'anno abbiamo deciso di approvare questa forma di promozione locale che reputo molto importante per noi, per la valle, a beneficio degli operatori economici, specialmente in questo periodo di post lockdown, un periodo ancora difficoltoso per molti. Un'iniziativa che abbiamo già ripreso lo scorso anno, dopo che si era interrotta nel 2018 per motivi finanziari. L'anno scorso io personalmente ho posto l'accento sulla ripresa di questa iniziativa e tutta la nuova giunta dell'Unione l'ha condivisa. Quest'anno quindi l'abbiamo ripresa, un po' in anticipo sui tempi, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso abbiamo approvato l'Ade Libera il 3 ottobre, mentre quest'anno l'abbiamo approvata proprio oggi, pomeriggio, giovedì 10 settembre. A differenza dello scorso anno, quest'anno noi curiamo anche tutta la parte amministrativa di EpiTicket, avendo a disposizione il personale qualificato per poterlo fare. Quindi un'iniziativa che anche da un punto di vista amministrativo gestiremo direttamente noi, quindi avendo anche un certo risparmio, che metteremo come risorsa aggiuntiva a coprire il costo di EpiTicket. Ho letto in giro, mi è capitato di leggere e di ascoltare un po' di malcontento su questo presunto ritardo di questa iniziativa. Credo che ci sia un pochino di malinformazione, nel senso che io rispetto le idee di tutti e le critiche sono sempre ben accette. Però queste critiche, per essere efficaci, credo che debbano avere alla propria base una corretta informazione. Approvandola oggi, giovedì 10 settembre, significa che già domani mattina le strutture ricettive possono convenzionarsi con noi e quindi già da sabato possono offrire ai propri clienti che pernottano il biglietto gratuito, quindi già in tempo per il primo weekend della fiera del fungo di Borgotaro. Addirittura, ho mandato ai miei uffici dell'Unione già da oggi pomeriggio e domani mattina di contattare tutte le strutture ricettive che l'anno scorso hanno aderito per poter già invitare domani mattina a venire qui da noi e firmare la convenzione. Quindi siamo prontissimi per partire. Devo ringraziare anche gli uffici tecnici dell'Unione che si sono adoperati velocemente per seguire le mie indicazioni. E da oggi è stato istituito il transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico sulla strada provinciale 308 R di Fondo Valle Taro in prossimità del chilometro 17. la misura spiega il servizio viabilità della provincia di Parma si è resa necessaria per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza. Si interviene sulla ricostruzione del muro in controripa sul quale occorre un lavoro immediato. Il semaforo rimarrà in vigore sino alla conclusione dei lavori. Continuano le superofferte da Montelli. La Nuova Montelli sempre più vicina a voi. La ditta La Nuova Montelli in questo momento invita ad acquistare Uva Vittoria a soli 1,59 euro al chilo. La Nuova Montelli davvero vincente. Nuova Montelli non ce n'è per nessuno. Supermercato Carrefour di Bedonia offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedonia coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Grande novità al Carrefour di Bedonia. Sushi fresco di ottima qualità con ordini su prenotazione nei giorni di giovedì, sabato e martedì. Buon appetito! Per ordini e informazioni 0525 824535 Per ordini via mail info chiocciolina supermercatosmc.it Whatsapp 333 67 93 607 Feramento a Baudassi la Romana, una tradizione che dura nel tempo. E ora Baudassi vi stupirà. Cesti per funghi a zaino euro 49, essicatore da funghi con cestelli in acciaio, tondi sovrapponibili ad euro 129, frullatore a immersione brown 450 watt ad euro 26, asciore cappelli senco a 2200 watt con diffusore ad euro 24,90. Ed ora da Baudassi le occasioni davvero eccezionali, imbattibili signori miei. Stufe a legna a partire da 290 euro oppure stufe pellets a partire da 599. Amici da Baudassi non ce n'è per nessuno, prezzi bassi. E' per questo che si viene da Baudassi. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000 Nuova energia al territorio Fiera del fungo di Borgotaro IGP 12-13-19-20 settembre a Borgo Valditaro. Informazioni e programma completo al sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Sale il numero di contagi da Covid-19 a Parma e provincia. Ieri 14 nuove positività ma nessun decesso. Di queste tre persone sono rientrate dall'estero. Tre sono state diagnosticate tramite gli screening per ricovero e sei tramite l'attività di contact tracking. Ampi spazi per i visitatori e musica itinerante per le vie del centro storico. L'edizione 20-20 della Fiera del fungo IGP di Borgotaro si adegua alle esigenze legate all'emergenza sanitaria ma non rinuncia agli appuntamenti fissi della Kermesse. Il paese invece sarà a disposizione dei commercianti che terranno aperto chi vorrà sabato e anche domenica hanno la possibilità di utilizzare il suolo pubblico senza oneri per poter mettere tavoli panche per far sedere e comunque far sedere le persone in modo che siano distanziate e possono comunque rispettare le norme in modo che possono comunque sedersi, mangiare, bere nei bar e stare in compagnia. La musica girerà per il paese, sarà in itinerante, non si fermerà da nessuna parte gireranno per il paese solo per tenere compagnia a chi in quel momento gira per il paese. Abbiamo pensato comunque di fare il solito programma musicale con magari un po' ridotto però con gruppi di musica popolare, musica folk e itinerante cioè vuol dire che comunque ci saranno i gruppi sia sabato che domenica dei due weekend che faranno la loro performance lungo la via nazionale, quindi le varie piazze e non fermandosi chiaramente a fare dei pezzi, cioè la musica sarà in movimento quindi è una cosa che abbiamo pensato di continuare sulla tradizione degli altri anni in forma un po' più ridotta però la musica per la nostra fiera è sempre stata la colonna sonora importante. Si comincia domani mattina alle 9.30 con l'apertura della fiera seguita alle 10 con l'inaugurazione della mostra micologica alle 11.30 inaugurazione della chermesse gastronomica alla presenza delle autorità e con l'esibizione del corpo bandistico borgotarese. Nel pomeriggio dalle 16 alle 18 musica popolare con le fisarmoniche di Tieduli in via nazionale e nelle vie traverse alle 16.30 primo appuntamento con show cooking in compagnia dello chef Antonio Mariani del ristorante Masco Ricordiamo che per una buona riuscita dell'evento in totale sicurezza si dovranno mantenere le distanze indossare la mascherina in tutte le aree della fiera e ovunque non sia possibile mantenere il distanzialmento di almeno un metro anche se all'aperto e igienizzare spesso le mani alle 19 si terrà la chiusura della prima giornata L'Alta Valtaro è terra ideale per gli amanti dei camper e dei caravan quest'anno più che mai il nostro territorio è divenuto meta privilegiata per gli amanti delle vacanze in movimento Quest'anno più che mai è stato l'anno delle vacanze en plein air spazi aperti, piccoli borghi, esperienze autentiche L'Alta Valtaro è diventata così una metà privilegiata e anche per quest'autunno complice una stagione di funghi e tartufi che sembra promettere bene e pronta ad accogliere tanti visitatori La presenza del salone del camper di Parma tra l'altro in coincidenza con la fiera del fungo di Borgotaro al via domani è occasione per presentare questa terra chi viaggia in camper e caravan con tanti nuovi servizi per vivere al meglio il soggiorno dalle aree attrezzate agli spazi più amati dai camperisti fino alle escursioni guidate e il noleggio di e-bike non mancano le opportunità di scoprire questo angolo di appennino emiliano al confine con Toscana e Liguria È stato realizzato per l'occasione un flyer illustrativo che verrà distribuito digitalmente e presso il salone del camper disponibile allo stand di destinazione Emilia e presente in tutti gli uffici turistici sia del territorio che di Parma Sempre in quest'ottica di promozione dedicata, l'Alta Valtaro è presente in questo mese nelle due testate giornalistiche più importanti del settore, Plenair e Camper e Caravan mentre il racconto del viaggio in Caravan è stato affidato a una famiglia di blogger Eli e Fabio on the road che sono stati in visita durante l'ultimo weekend di agosto e hanno potuto apprezzare il meglio dei cinque comuni del camprensorio ovvero Albaretto, Bedogna, Borgotaro, Compiano e Tornolo Il Covid-19 ha fermato le tante iniziative che erano programmate per quest'anno nella frazione bedognese di Liveglia ma gli organizzatori hanno lanciato lo stesso, una bella iniziativa apprezzata davvero da tanti lasciare sui prati un sasso o una pietra colorati Inaugurato il 28 aprile dello scorso anno con una grande festa che ha visto la partecipazione eccezionale di tutti Liveglia Live è una mostra permanente di sculture create da artisti provenienti da tutta Italia è ispirati alla storia, alla memoria e al futuro di questo paesino incastonato nell'Alta Valceno di Bedogna per riscattarlo dall'estinzione e recuperare tutti i valori di un turismo ambientale come bene di successo L'anno scorso ad agosto è stata poi organizzata una grande caccia al tesoro con domande legate alle opere presenti che ha visto la partecipazione di 70 bambini con relativi genitori che hanno riempito di vita e allegria il borgo In autunno il concorso fotografico 50 sfumature d'autunno dal 16 novembre al primo dicembre ha visto la partecipazione di opere veramente originali e bellissime tra i premiati locali Valentina Pellecchia, Alessio Minoli e Annalisa Debei Poi è arrivato il Covid-19 spiega Luciana Bertorelli, ideatrice del progetto proprio mentre aspettavamo di partire con una mostra importante degli artisti nei locali rinnovati del seminario nella primavera 20 e 20 e con i giochi campestri che avrebbero dovuto realizzarsi lo scorso agosto Così abbiamo creato il Memorial 2020, un'idea vincente, diginomiante al quale tutti possono partecipare dipingendo una pietra e posandola sull'erba Il progetto ha preso il volo da subito e a Liveglia continuano ad arrivare pietre dipinte I visitatori sono tanti e tutti rispettosi della natura e dell'arte con tanti bambini, il nostro futuro conclude Bertorelli al seguito Un'idea che ha incuriosito i media che hanno realizzato un servizio come Rai 3 Regione e Il Fatto Quotidiano Un lungo lavoro che ha portato frutti importanti e che va espandendosi sempre di più La prossima iniziativa in programma è un calendario Lions progettato da Nadia Grillo che vedrà la luce a ottobre e sarà presentato presso il Circolo del Golf ad Albissola e forse anche al Seminario di Bedogna Davide e Bruno della ditta Fortunati Elettrodomestici terminano l'estate 2020 prolungando alcune offerte in corso ed agevolandone di nuove Continua l'offerta per esempio su Scopa Elettrica Roventa offerta davvero imperdibile ad Euro 109 Cucina a beco bianca 60x60 forno elettrico statico scontatissima 319 Spazzoline elettrici oral B adulto e bambino 24,90 Da oggi trovi macchina gasatrice gas up made in Italy Inoltre in negozio sono disponibili altri nuovi prodotti tutti rigorosamente made in Italy Affettatrice S2 con lama diametro 27,5 Premi tutto tre spade gratugia professionale fama essicatore tre spade Si ricorda inoltre alla gentile clientela che la ditta prosegue nell'installazione riparazione e assistenza di tutti i vostri elettrodomestici Da oggi ci potete inoltre seguire anche sulla pagina Facebook Da fortunati Bruno e Davide Borgo Valditerro Pensa a un tuo cliente che sta camminando per la strada ad un certo punto si ferma e si ricorda delle tue torte ma non sa dove è il negozio e quindi lo cerca su internet ma non lo trova perché non è un sito internet perché non sei il primo della lista perché non c'è una mappa che gli indichi dove sia il negozio in tutti questi casi si rivolgerà a qualcun altro Non ti disperare ma contattaci e ti aiuteremo a sviluppare una strategia web per attirare nuovi e resistenti clienti VALTERRA GAMBOW VALTERRA FEDICAL GAMBOW VALTERRA FEDICAL FEDICAL Bhe che è Nando? Nandoh, io dove? C'è che avrebbe da morire la città una volta? Bheh Walter, ma cos'è chi? all'altro è quel che bambone? Le diarica viene subito alla Ferra D'Alfonso Ma scopri Avrei saprei una stessa? BAMBOW VALTERRA E lo ha, e lo non ho la fiera più buona del mondo. A tal può dire, fiera Delfose e Borgter IGP, edizione speciale 2008. Fiera Alimentera, Sio Cooking e Mostra Micologica. Dodos, Tredos, Desnove, Vinse, Tembo. Sono Mazzocchi, sono responsabile dell'endoscopia dell'ospedale qui di Borgotaro. Grazie a Insieme per Vivere abbiamo aggiunto una strumentazione importante. Questo è il nuovo colonoscopio, con particolari caratteristiche che ci permettono di individuare subito che tipo di polipi da trattare, per quanto riguarda il colon, da togliere oppure da considerare in altro modo. Continua a dare una mano alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere che lavora per il tuo ospedale. Domani è sabato 12 settembre, avremo cielo sereno e al più poco veloso per il transito di nube alte e sottili, temperature minime in lieve calo intorno ai 15 gradi, le massime stazionarie tra 27 e 29 gradi, venti deboli variabili. I programmi di questa sera su RTA cominciano alle 20.35 con Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22.30 al Telegiornale, alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte una nuova puntata di Rivediamoli dell'anno 2000. È tutto, grazie per essere rimasti con noi, vi auguro una buona serata, a domani con il TG 19.35. Grazie per la visione!